È una partita che come ho detto prima ad altri vostri colleghi e a voi è importante per Riccortone perché possiamo dire la nostra fino in fondo. Ma intanto sull'espressione del nostro gioco che di partita in partita si fa sempre più chiara e nei tempi dello sviluppo della manovra più conosciuta, più veloce continuiamo a crescere anche nella capacità di poter gestire le due fasi. Dall'altra per vedere alcune situazioni legate magari a delle letture che possono accadere a seconda del tempo che si sta giocando, quindi verso la fine, all'inizio, insomma, tutte quelle che poi fanno la differenza in una partita di calcio. In questo momento mi spiace per Clayton che lo perdiamo per un mesetto visto che ha avuto una distrazione del collaterale. Nalini ha avuto una problematica anche lui, Tone è una cosa che si porta da più tempo dietro, però, insomma, fortunatamente fino ad oggi non abbiamo avuto, secondo me, delle situazioni per le quali non sapevamo chi schierare. Stiamo lavorando bene, queste sono cose che accadono, ci sarà la possibilità per altri giocatori di poter dimostrare che questa è un'avventura per tutti. La positiva è recuperata Stojan, potrebbe partire già titolare? Non credo abbia la possibilità, potrebbe partire titolare, ma non credo che abbia i 90 minuti, quindi vedremo quale cosa è meglio fare. Noi vogliamo vincere contro chiunque, non solo all'uscita che ci gratifica particolarmente perché avere il nostro pubblico fa sempre la differenza, anche nelle emozioni, quanto per il fatto che contro chiunque giochiamo e dove andiamo dobbiamo avere questa mentalità. Credo che sia uno dei prerequisiti per poter centrare il nostro sogno. Ho detto che il Crotone deve poter sempre sognare in grande e quindi puntare sempre alla massima posta in paglio. Di contro dico che nell'evolversi della partita dobbiamo migliorare, questo è una cosa che ci siamo già detti più volte, che accadrà soprattutto di partita in partita con l'esperienza acquisita, capire che per noi diventano importanti punti sempre e comunque. Quando si tratta dell'intera posta in paglia siamo maggiormente contenti, quando si tratta di punti meno punti danno comunque continuità e soprattutto non permettono ad altri di poter progredire in maniera più convinta.